Bene, oggi ci siamo riuniti con gli inidoni e i precari amministrativi e tecnici perché abbiamo avuto un'altra vittoria, abbiamo ottenuto lo sblocco dei posti per gli amministrativi e tecnici precari e questa è una vittoria dei Cobas, ma è soprattutto una vittoria dei colleghi inidoni e dei precari atari amministrativi. Sappiamo che in queste ore stanno rivendicando tutti questi posti, nella realtà noi sappiamo benissimo che soltanto grazie alla mobilitazione che da due anni abbiamo messo in campo che questa altra piccola ma ancora non definitiva vittoria si è aggiunta, non definitiva perché noi sosteniamo che i posti per le emissioni in ruolo per questi profili ATA non sono tutti quelli che dovrebbero essere dati, infatti oggi insieme ai colleghi inidoni abbiamo deciso di discendere in piazza giovedì 13 per rivendicare un maggior numero di posti per gli amministrativi e per bloccare definitivamente la mobilità intercompartimentale obbligatoria per i docenti inidoni. Non si capisce infatti per quale motivo dopo aver abrogato l'obbligo dettato dalla spending review di Monti del passaggio dei docenti inidoni nei profili amministrativi e tecnici ancora si insista a voler penalizzare i docenti inidoni tentando di trasferirli in altri profili nelle altre amministrazioni. Sotto organico sono le altre amministrazioni, sotto organico è l'amministrazione della scuola che nelle biblioteche e nei laboratori didattici può utilizzare anche come supporto al piano dell'offerta formativa tutti quei colleghi che per motivi di salute non possono più stare in classe. Questo noi vogliamo ottenere e per questo vogliamo che il ministro Giannini, il neoministro appena insediato ci incontri di nuovo giovedì 13, convegno CEST, Centro Studi Scuola Pubblica e a seguire un sit-in al Ministero della Pubblica Istruzione. Vi aspettiamo tutti!